Per comprendere il disagio arrecato dai cordoli in via Cesare Battisti agli operatori commerciali e ai cittadini cerchiamo proprio di sentire dalla viva voce degli operatori commerciali le loro lagnanze. Siamo infatti con il signor Luigi De Marco del Bar Italo, sito in via Cesare Battisti 17. Signor De Marco ci esprima le sue sofferenze e quelle della categoria. Sì vabbè, è chiaro che questa soluzione di questi cordoli messi in Cesare Battisti hanno solamente procurato disagi sia la circolazione e poi ci hanno recato sinceramente danni, a meno parlo della nostra tipologia di lavoro che sarebbe quella della colazione veloce dei 5-10 minuti che la gente sosta da noi. Il mordi e fuggi ci si ferma un momentino con una sana e non dannosa doppia fila. Noi non vogliamo legittimare la doppia fila ma il mordi e fuggi deve essere tollerato. La possibilità di poter parcheggiare con i 5-10 minuti che adesso chiaramente non c'è più. Ci ha recato chiaramente danni notevoli perché abbiamo perso almeno, volendo quantificare almeno un 30% sulle nostre entrate. L'altro aspetto negativo è che questa decisione vi è calata, vi è caduta tra capo e collo senza che foste stati preventivamente coinvolti, cointeressati. Sì no, ma infatti anche in società con la nostra associazione sapevamo che avevamo un certo... Con Focommercio avevamo un determinato tipo di intervento che doveva essere effettuato, tipo che dovevano essere delle soluzioni per ovviare a questi cordoli. E invece nulla. Invece non c'è stata data proprio il tempo, ne è di ragionare, sono passati due o tre giorni da quando c'è stato il primo avviso e chiaramente non c'è stata la possibilità di poter organizzare nessun tipo di soluzione per poter ovviare a questi cordoli. e quindi ce li siamo ritrovati da loro già domani e chiaramente il disagio ha portato del malessere chiaramente anche con i cittadini, che chiaramente molti, infatti l'ultimo caso è successo a Vantieri, di un signore, di un cliente che stava attraversando la strada ed è caduto ed è intervenuta il 118 perché chiaramente hanno portato un po' di disagio a questi cordoli. Grazie